Buongiorno da Edo, una delle notizie che mi ha più incuriosito, divertito, ma mi ha fatto anche piacere insomma vedere, è il rilascio della versione 4.0 di una libreria che davo abbastanza per defunta, deprecata quantomeno, una libreria che affonda le sue radici in un'altra epoca del web, totalmente in un'altra epoca, e tra l'altro nei primi anni del mio appunto affacciarmi al web. Sto parlando della nuova major version di jQuery, non so come la pronunciate, magari tanti di voi che stanno seguendo questo podcast e sono entrati da poco nel mondo della programmazione web, manco sanno che cos'è jQuery, non ci hanno mai avuto a che fare, bene però jQuery 10-15 anni fa, penso addirittura, no forse 15 anni è un po' troppo, era una delle librerie proprio più utilizzate, dominante su web arrivava, proprio così insieme all'ondata di nuove librerie javascript con l'avvento diciamo del web 2.0, di XML, HTTP request, di Ajax come pattern, insomma, quell'ondata di rivoluzione che portò a librerie come Mutools o Scriptaculous, ecco poi arrivò jQuery e divenne uno standard di fatto sul mercato, e appunto vedere che adesso è uscita una nuova major version 4.0 mi fa anche pensare, ma allora serve a qualcuno, qualcuno davvero ancora sta usando, sono andato a cercare un po' di dati e sul survey di Stack Overflow, che interpella un tot di programmatori soprattutto basati negli Stati Uniti, viene fuori che jQuery è il terzo framework, se possiamo definirlo framework, insomma, più utilizzato dai programmatori che hanno risposto al sondaggio. Il primo è Node.js, poi c'è React e poi c'è jQuery fermo a un 22%, naturalmente sto parlando di framework web. Insomma, è abbastanza impressionante, se pensiamo che potrebbe trattarsi di una tecnologia davvero deprecata, obsoleta, potremmo dire. Eppure pare che, insomma, per un tot di progetti, o vuoi perché c'è una legacy da mantenere, oppure perché a volte ci sono delle piccole esigenze di manipolazione del DOM, che jQuery effettivamente rende più semplice, invece che andare a intervenire a mano. Tra l'altro, senza dimenticare tutto il discorso della cross-compatibilità dei vari browser, adesso jQuery con la 4.0 ha deprecato Internet Explorer 10, però rimane l'11, e rimane comunque una compatibilità molto generale con tutti i browser, che fa comodo magari a qualcuno che ha un piccolo progettino da fare, piccole parti di DOM da manipolare, magari all'interno di un progetto che deve rimanere molto piccolo. E jQuery, come la libreria, è molto piccola, ha un fingerprint molto piccolo. Quindi, per una serie di ragioni, insomma, jQuery è ancora attuale, apparentemente ancora un qualcosa che può dire la sua in un mercato dominato dai grossi nomi. Io sono qua, tra l'altro, con la maglietta di Angular, insomma, un mercato dominato da questi grandi framework, tra l'altro, appunto, sostenuti da grandi aziende. Ecco, invece, jQuery si ritaglia ancora un suo spazzetto e addirittura dà segni di vita ed è mantenuto fino ad arrivare a una pubblicazione di una 4.0, che avverrà, evidentemente, quest'anno, insomma, si spera, dopo l'annuncio appunto del 6 febbraio, della pubblicazione della 4.0 Beta. Volevo iniziare un po' così, eh, nota di allegria, ma in questa puntata facciamo una cara, vecchia, monografica, quindi parleremo solamente di un nome, un'azienda, una big corporation, che sarà Google, a dopo. Allora, oggi parliamo di Google e iniziamo da una decisione del governo della Danimarca che, apparentemente, vuole bannare l'uso di Google, dei software di Google, dalle scuole. Non è esattamente così, ma, insomma, questa potrebbe essere la headline, no? Il ban di Chromebook dalle scuole danesi. Infatti, così apre un articolo di The Verge. E dice che, appunto, il regolatore per la privacy danesi, che è DataTilSysNet, adesso si pronuncerà in un altro modo, comunque ha chiesto alle città danesi di assicurarsi che i software che usano non mandino dei dati sensibili a Google, soprattutto in quelli che riguardano gli studenti. Infatti, l'agenzia ha scoperto che i dati che Google riceve dalle scuole, che contengono quindi gli dati degli studenti, sono utilizzati per dei suoi scopi interni, insomma, e questo non è permesso dalla legge per la privacy dell'Unione Europea. E quindi le scuole, gli istituti, le municipalità che utilizzano software Google devono spiegare all'autorità danese entro il primo marzo come intendono essere compliant con la legge europea sul trasferimento dei dati da Google. Naturalmente non è un ban immediato e forte all'uso dei Chromebook o del software di Google in generale, però devono trovare un modo, insomma, per essere compliant con la legge europea e con i software di Google che ormai sono diffusi in tutte le principali scuole pubbliche danesi. E infatti poi nella news che era stata inizialmente riportata da Bleeping Computer si leggono le tre richieste principali che il governo fa alle municipalità danesi e sono una, terminare il trasferimento di dati personali a Google oppure avere, insomma, ottenere delle basi legali che regolamentano questo trasferimento. Due, analizzare e documentare come i dati personali sono utilizzati prima di usare appunto tool come Google Workspace e poi tre, assicurarsi che Google non utilizzi i dati che riceve appunto in modi che non siano compliant con le leggi e gli usi consentiti di questi dati personali da parte di Google sono quelli che riguardano il miglioramento della security dei loro servizi oppure il miglioramento dei servizi educazionali offerti da Google Workspace o cose simili, ecco, ma invece quelli non permessi sono tutti quelli che riguardano la manutenzione o il miglioramento dei prodotti in sé, quindi azioni anche di business da parte di Google sia nella suite di Google Education ma anche in Chrome OS o nel Chrome browser anche per quanto riguarda la misurazione delle performance oppure lo sviluppo di nuove feature e nuovi servizi. E quindi anche qua, come dicevo, si vede che c'è un tentativo di bannare il trasferimento di dati personali o comunque di fare in modo che le scuole capiscano come regolamentare questo flusso, ma siccome regolare il flusso soltanto di dati di studenti in pratica creare un filtro o una cosa del genere è molto complesso, molto difficile probabilmente la richiesta si potrebbe tradurre in un bann completo ai Chromebook o software di questo tipo insomma software Google e i tool di Google che stanno nelle scuole. E infatti chiudo con un articolo di opinione che trovo su un blog che si chiama Privacy Dads Blog comunque consiglio di darci un'occhiata l'articolo si intitola Final Decision on Chromebook Case in Denmark e una cosa che volevo leggervi era Why Not Linux? il paragrafo che si intitola Why Not Linux? E infatti vi leggo non vedo come mai i ministri dell'educazione non abbracciano l'utilizzo di Linux nelle scuole se l'argomento per l'uso dei Chromebook è il basso costo allora questo è un argomento fasullo, fantoccio perché in realtà appunto il software Linux, il software open source sui desktop è free, è gratuito e se la preoccupazione è sull'hardware invece sul costo dell'hardware allora io chiedo di guardare all'hardware ricondizionato insomma di seconda mano magari quello che viene dalle compagnie o dalle organizzazioni o anche dai privati infatti tutti i laptop che in alcune organizzazioni sono considerati deprecati, vecchi insomma possono essere riadattati utilizzando una distribuzione Linux e poi software open source e free come LibreOffice e Chrome stesso può essere rimpiazzato da software come Firefox e da motori di ricerca come DuckDuckGo e inoltre le piattaforme a scuola possono girare le piattaforme cloud possono girare in piattaforme cloud interne come Nextcloud e mi sento di sposare questo argomento in Italia ci sono delle associazioni che si occupano di portare l'open source a livello software ma anche l'hardware ricondizionato nelle scuole e tra queste mi sento di citare gli informatici senza frontiere se vivete in una città italiana è probabile che ci sia un gruppo locale di ISF nella vostra città nei comuni magari potreste provare a contattare quelle del vostro capoluogo oppure provare a vedere se riuscite a crearne uno insomma è un'organizzazione che si occupa appunto di fare questo e potete donargli il vostro hardware obsoleto o magari anche aiutare con le vostre competenze appunto fare installazioni in scuole, luoghi pubblici ma insomma nei vari punti dove appunto ISF va a fare il proprio lavoro insomma a vedere in quale modo potete contribuire a questo progetto quindi ricordatevi informatici senza frontiere ma vado avanti con le news che riguardano sempre Google c'è il progetto da parte di Google di spendere un milione di dollari di investire un milione di dollari nella interoperabilità tra Rust e C++ ecco Google appunto si sa da questo annuncio che hanno fatto ha donato un milione di dollari alla Rust Foundation proprio con l'obiettivo di migliorare questa interoperabilità l'iniziativa si chiama Interop, Interop Initiative e insomma l'obiettivo potrebbe essere quello di portare le organizzazioni a migrare lentamente ovviamente la loro codebase da C++ a Rust perché questo è un processo molto lungo, molto difficile c'è un sacco di codebase legacy creata in C++ quindi non è pensabile che le organizzazioni traducano la loro codebase in Rust quello che invece è più pensabile è quello che i nuovi sviluppi vengano fatti in Rust riuscendo poi a importare librerie dalla vecchia codebase C++ oppure da tutto l'ecosistema di librerie C++ e questo può essere fatto appunto migliorando questi meccanismi di interoperabilità cosa che sta già avvenendo, ci sono già progetti insomma in questo senso anche Microsoft sta investendo in questo obiettivo d'altra parte anche Linux, Linux Torvalds ha insomma più volte aperto la possibilità di includere Rust in alcuni componenti di Linux nel Linux kernel che ha scritto soprattutto in C e Rust sta anche venendo scritto, importato dentro il GNUCI Compiler quindi in GCC e l'interesse principale che Google ha qui investendo in Rust ma anche le altre aziende è quella di svoltare verso una caratteristica importante che è quella della memory safety, cioè l'impossibilità per un software di andare a scrivere fuori dalla propria area di memoria dedicata questa è una caratteristica distintiva di Rust rispetto a C e C++ però è una cosa a cui C++ stesso sta lavorando infatti ci sono delle parole del creatore di C++, Bjarne Strohstrup che dice appunto che anche C++ può integrare funzioni di memory safety che non erano possibili quando il linguaggio nacque perché c'erano delle limitazioni anche a livello di hardware oggi invece la situazione è un po' diversa quindi ci si può lavorare, ci si può migliorare insomma in questo ambito quindi insomma grandi investimenti di Google in Rust e comunque si sa già come dicevo anche prima che i progetti per portare la compatibilità delle librerie C++ in Rust già ci sono, già sono utilizzati infatti molti sviluppatori C++ stanno utilizzando Rust nei loro progetti mi aggancio ora con una notizia bruttarella, insomma triste cioè il fatto che Google ha definitivamente spento i link alle copie archiviate dei risultati dei motori di ricerca e questo è stato confermato l'ha scritto anche su xTwitter insomma uno dei leader di Google Search che si chiama Danny Sullivan e ha scritto appunto che sì la funzionalità della copia cache ecco di una pagina è stata rimossa e anche se si rende conto che è triste però vorrebbe lavorare insieme a Internet Archive per poter fornire una copia cacheata dei risultati proprio da Internet Archive però questo come ha confermato lui stesso è soltanto un sogno è un'idea che ha lui nella sua testa ma non c'è nessun accordo e insomma non sono stati neanche contattati direttamente quelli di Internet Archive che ricordo insomma è una fondazione che cerca di preservare le pagine web tutte le pagine web insomma nel tempo con anche il versioning insomma delle pagine stesse e come fa notare un articolo di The Register tra l'altro Google non appare neanche tra i sostenitori tra i donatori a Internet Archive che tra l'altro si è anche espressa in un blog post dicendo che questa decisione di Google di spegnere la cache dei siti pubblicamente a meno perché in realtà la cache poi internamente Google ce l'ha e continua a usarla però insomma spegnerla per quello che riguarda il pubblico ecco non è una bella decisione per quanto riguarda insomma l'ecosistema web in toto vado qui invece a parlare di BARD una piccola notizia che riguarda BARD e cioè la novità della possibilità di creare delle immagini insomma finalmente dopo che anche gli altri Bing e ChatGPT insomma già fornivano queste possibilità da diversi mesi cioè di creare immagini direttamente dalla chat ecco questa roba arriva anche in BARD e questa roba utilizza il modello text to image di Google che si chiama Imagen Imagen 2 ecco già sappiamo che BARD è sostenuto insomma da Gemini Pro e adesso insomma con questa nuova feature si sta allineando ai competitor tra l'altro Google ha detto che questa funzionalità è pensata per essere per un uso responsabile insomma per essere usata responsabilmente diciamo intanto con due caratteristiche principali il primo è il watermarking quindi la feature di watermarking sarà dentro i pixel delle foto generati e la seconda invece è l'impossibilità di generare immagini con delle persone note insomma dei VIP ricorderete il caso successo di recente a Taylor Swift e anche con immagini violente, offensive oppure sessualmente esplicite e infine vi punto a un progetto Google che in realtà esiste già da diversi mesi però intanto magari non lo conoscete e poi c'è una novità che lo riguarda e quindi ve la sparo per oggi il progetto in questione si chiama Project IDX ed è un workspace, un editor web su web, come potete immaginare code per esempio su web o workspace appunto in GitHub però è un integrated environment che ha anche delle caratteristiche più innovative insomma più grosse rispetto proprio a quelli che ho citato e la novità insomma che lo rende molto appetibile soprattutto per chi sviluppa su mobile è l'integrazione degli emulatori infatti da pochi giorni insomma stanno arrivando gli emulatori quindi sia quelli per Android che quelli per iOS direttamente dentro Project IDX quindi andando sul proprio account idx.dev e aprendo insomma il codice relativo Android o iOS si può lanciare una build e vedere il risultato dell'app o anche Flutter ecco perché Flutter naturalmente è quello che Google cerca di spingere di più insomma si apre il risultato della build nativamente su un emulatore che poi si vede direttamente su web questo per chi sa quanto sia insomma complesso sviluppare su un desktop a volte su un laptop insomma con gli emulatori e tutto quanto anche proprio quanto è difficile avere diverse versioni dello stesso device perché a volte l'app va testata su diverse versioni ecco avere degli emulatori su web direttamente integrati in un environment è molto figo e questa è la promessa insomma della novità di Project IDX quindi se non lo conoscevate adesso avete magari un'arma in più per il vostro sviluppo web che vi consiglio di vedere tra l'altro tra le altre novità c'è stata anche l'integrazione dei Project Template quindi potete fare il bootstrap di un progetto Angular, Next, React, quello che vi pare e insomma direttamente IDX vi crea uno starter kit insomma vi scaffolda un progetto così da dove potete iniziare a lavorarci quindi questo era Project IDX secondo me è una cosa piuttosto interessante che viene proprio da Google for Developers vi lascio dei link veloci ma è tardissimo il primo, Culture Change at Google poi dopo vi do il link naturalmente questo è un ex sviluppatore Google ma uno sviluppatore che è rimasto in Google per 18 anni mi pare che è Ben Collins Sussman che tra l'altro è il creatore di Subversion uno dei creatori di Subversion insomma era in Google da un bel po' di tempo ora non lo è più proprio da gennaio è entrato nel giro di layoff di Google in gennaio e parla appunto in Culture Change at Google del cambiamento insomma che è avvenuto in Google rispetto a quando lui era entrato e poi com'è invece oggi questo rispetto soprattutto al rapporto con i dipendenti di Google è una lettura insomma che consiglio per rendersi un po' conto di come funziona all'interno di Google che comunque dal punto di vista dei developer è sempre stata vista come un'azienda virtuosa e invece magari qualcosa negli ultimi anni è cambiato e questo è un punto di vista che ve lo descrive gli altri due link che vi do sono uno le release note di Go 1.22 che comunque essendo un progetto nato insomma nel bacino di Google lo inserisco in questa puntata però non ve lo sto a raccontare se siete sviluppatori di Go magari vi interessa andare a vedere le release notes di Go 1.22 che arriva a mi pare a sei mesi di distanza dalla precedente release 1.21 e introduce qualche piccolo cambiamento soprattutto nella toolchain poi vi do come mi riaggancio alla intro perché vi dico che vi lascerò i link sia del changelog anzi del blog post con poi il changelog DJ Query 4.0.0 beta eccolo qua e poi anche il link alla survey di Stack Overflow così potete vedervi tutti i risultati e come dicevo appunto quello che riguarda invece i framework web quindi vedete anche jquery al terzo posto vi do anche questo link così magari potete spulciare altri risultati insomma in questo survey comunque è interessante da vedere io mi fermo qui grazie per avermi seguito anche oggi in questo monograficone insomma su Google spero che sia stato interessante e piacevole noi ci vediamo per un prossimo episodio del buongiornissimo voi fate i bravi e continuate insomma a sostenere e contribuire all'open source ciao 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 Grazie.